I grandi momenti derivano da grandi opportunità e questo è quello che avrete stasera. Questo è quello che avete meritato, una partita. Se ne giocassimo dieci loro ne vincerebbero nove, ma non questa partita. Li affronteremo e riusciremo a batterli perché possiamo! Stasera, noi, siamo la più grande squadra del mondo. Si è allenati per diventare dei giocatori. Ognuno di voi. Era destino che vi trovaste qui, stasera. Grazie a tutti!